Sietevi una gazzetta al sud di ieri, c'è un'ampia intervista, gazzetta al mezzogiorno. Vogliamo saperlo anche noi, un ricordo di Tartarella rispetto a quello che era il suo pensiero, anche rimasto ancora oggi. Lo devo concentrare in quanti secondi, perché era un pensiero complesso quello. Non abbiamo proprio. No, no, Tartarella aveva una concezione della politica articolata, nel senso che aveva ben presente che c'è un momento che è quello della progettazione, vale a dire elaborare un progetto politico, e poi c'è il momento della divulgazione, che è il momento della propaganda. Credo che questo sia un insegnamento valido ancora oggi. Grazie mille.